Eh vabbò Senti ma tu dove sei propenso? Da dove inizi? Guarda io c'ho il banner di Gogeta che per me è oro colato Oro colato Addirittura Non ho Broly Trio, non ho Gohan, non ho Metal Cooler Non ho manco quel pippone di Goku Spirit Bomb onestamente a dirla tutta Non c'è un cazzo Te ne mancano un sacco Non c'è un cazzo Ma guarda già solo per il Broly Trio per me vale la pena Ok Poi Gogeta è Gogeta, mi piace Anche se c'ho il problema che Gogeta è stato l'unico personaggio che io ho trovato al nono anniversario Jap Per il resto zero Quindi onestamente vorrei trovare pure Broly Allora senti io nel dubbio Ti faccio un attimo una cosa Vai Mi devi dare la condivisione nel caso Ti sei? Grazie te prego, grazie mille per il Prime, bello Benvenuto Visto che non sempre la fortuna ci sorride E noi vogliamo le cose concrete Non so se tu stai guardando la mia live in questo momento Però No Allora se riesci a sbirci Mi puoi fare la condivisione? Ci condividiamo a vicenda? Ci sta Vai te la faccio subito la mia Aspetta, vediamo un po' Allora guarda faccio così Così Condividi OBS Sì 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 Lo faccio vedere Esatto, esattamente Esattamente Ok Facciamo così Lo faccio pure io Vediamo Scusate ragazzi Un attimo Perfetto Perfetto Ma che maglia hai Ma che maglia hai? La maglia di Ttd Ti piace? Ti piace la maglia di Ttd? Non credo sia Ttd però ok Allora senti Continui a vedere Mi dai conferma? Sì 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 Vedo vedo Aspetta L'unico problema Aspetta Come devo far Fammi vedere Se io faccio così Tu ti rivedi Giusto? No io vedo sempre la tua live Ok però così va bene Ah ma Mi stai mostrando anche me Eh sì però è un casino Aspetta Sto prendendo conto di un casino Ciao amici Buonasera È un casino totale Come devo far? No no questa volta Non ho il cesto ragazzi È passato di moda Basta basta Questa volta Abbiamo le maniere pesanti Se Gogeta non vuole uscire Eccolo qua Azze bellissimo Faccio vedere Aspetta Bellissimo cazzo Ma questa che versione è? Questa è il Masterless Extreme Bello Bello proprio Mamma mia Tra l'altro Ringrazio Claudio Che forse è in chat Che ce l'ha fornito Io c'ho Credo è il primo Che sia uscito Di Gogeta Blue Come si chiamava? La Gigante Grandista Ah il Grandista Sì si me lo ricordo Grandista Sì c'ho la Grandista Allora vabbè Allora facciamo così Io lo lascio anche l'altro Sì pure quello è bello Sempre Masterless Ho visto Allora facciamo così Puoi inizia tu E io faccio vedere E poi passo Passo io Come vuoi Si parte da Gogeta Entrambi quindi Sì però facciamo Uno e uno Perché non riesco a mostrare Entrambi È un casino Vai 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 Facciamo così Puoi iniziare prima tu? Vai inizio inizio Allora Dammi un secondo Vai Vai pure Vai pure Let's go Let's go Vai 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 Trova c'è sto PG va Ah ma quanti sono c'hai? Non l'ho visto Abbastanza Non l'ho visto Quanto? Più di 2000 Ma non mi ricordo Non ne vogliamo dire No 2007 Tipo una cosa del genere No no Nulla da nascondere Tranquillo Allora Io ti dico Prima da 30 Bello mazzo Intanto lì Da cornice Sì è un fantastico regalo Di Giften Che dovrebbe portare fortuna Ma non penso Lo faccio Ah ma era di Giften Cioè te l'aveva regalato lui Sì Best compleanno Non l'avevo capita io sta cosa Il Giftenone Dai 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 Questa di riscaldamento Eh proprio Sì vabbè ma sono 30 Dai 20 tonni in meno Nail Ok Vai Buono Allora Io ti dico una cosa Ti dico una cosa Ti dico quello che non accadrà adesso Perché? Perché io nel JAP La prima multi che ho fatto Su Gogeta Vabbè non è stata proprio la prima in assoluto Ma la prima multi che ho fatto nel JAP Su Gogeta Insomma in live L'ho trovato Subito Ok? E Broly ti ha fatto penare No ma Broly non l'ho proprio trovato Io non l'ho trovato più nessuno Ho trovato solo Gogeta Ok Capito? Ora qual è il punto? Che io una settimana fa Tipo ho fatto un giochino Ho provato un attimo a pullare in giro Negli altri banner anniversari Insomma così Simulatori Ste cose del genere Insomma Prima multi da Gogeta Di nuovo trovato Di nuovo multi da Gogeta Di nuovo trovato Quindi ti sei Quindi adesso Dici secondo la tua logica da napoletano Ti sei bruciato L'occasione di pullarlo Bravissimo Quindi io adesso lancio da Gogeta E la cosa certa è che non lo trovo Vai E invece? Subito Non lo trovo Angelo Attenzione Attenzione Però Guarda veramente mi inizio a fare delle serissime domande Se lo trovo Te lo dico Mi inizio Mi faccio delle serissime domande Se esce Gogeta Signori inauguriamo questo non anniversario Non ho fatto niente Ma erano È la coppia no? Sì è la coppia Ma non mi ha fatto niente Ma è scam? Ma scusa ma Aspetta Chi c'era in questo banner da Gogeta? Ma com'è possibile? Deve essere per forza un vidurid Sarà un fantastico raid summon Ci stanno Paragas Baro Bardak e Krivina GL Maro Eh mi sa che sono quei pippazzi Era pure lui Pure lui No no questo no Dentro ai discorsi No no non è in let up Aspetta mi pare che Jaotsu e Tien vogliono pure dire 3SSR Sai che fosse su 3SSR tipo Capiamo Vediamo Se io voglio Eh mi sa che sono 3SSR Se io volessi mostrare invece In live da me La tua pull Come devo fare? 3SSR Sì 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 3SSR Te l'ho detto No invece Cavolo No 2 Manco 3 Ah no 3 Compreso il terzo Garantito Ti metto qua E vado avanti Ah beh lasciamo Regia perfetta Grazie amici Per Grazie per la fiducia Si va avanti Ecco questo è il Il serio Il professionista Blaziken Vai vai E no Visto che mi stanno guardando Dall'altra parte Vai di nuovo con Gena Goten e Trunks Oh no Fermi tutti Fermi tutti Fusion Uh non mi sto a far vedere Fermi Scusami Mi sono scordato Ah sì Angio Ma io devo Effettivamente Fa così poi E' vero Vabbè mostrami solo Quando pullo Dai fai come faccio io Direttamente Vai vai Bello Ma ora fa Fusion Ok Dai 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 No 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 Davide non si è perso niente Siamo a pulla mu Uh godku Buono Carino dai Quando ce l'hai Ability full Adesso si Adesso è full Ce l'avevo Ability free Quindi Ce l'avevo Ability free Quindi Forse ability 1 Non mi ricordo Ci può stare Ci può stare Aspè Eh esatto Così Poi quando Quando devo pulla io Mi fai vedere Perché faccio i cambi schermata Dai No raga Non c'ho spazio Non c'ho spazio Già la faccio Viene meglio così Fidate No Tra l'altro Quando gli danno un elza A questo Vado io Vai vai Aspetta che Vamos Vai Eccoci Vada vada Ecco tu lascia così Poi pigi l'occhio Quando finisco Capito Ci sta Vai gogetta 40 Vai Let's go 40 da gogetta Va bene Niente di Particolare Ok Un'altra 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 Fatta un'altra Fatta un'altra E non so Fa un'altra Ragazzi Mille Ma va bene Ma va bene Per il momento Sono 70 Stones Spese Quindi non è un problema Ok Grazie 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 Giuseppe 1108 Grazie Mille Sium Grazie Mille Per il Prime Bello Cicciotz E va bene Bel Paragas Paragas Mi chiamano Pagafi Chiedeva Per favore Questo è un altro Dimenticato Che sta aspettando Lezza Sì Ma non ci No Pure a te Ma che Ragazzi È possibile Gli amichetti Che comprano Lo stesso pacchetto In edicola Il blu Quante probabilità C'erano Guarda No sense Vai Chi sono Vai Vai Già Arrima da 50 Eh sì Eh sì Angelo Ti dico La bella È la 7 La 7 Bellina Aspetta che c'è Vegeta Vediamo se Se ci fa il dito Medio Si fonde Vai che la No Dito medio Totale Cavolo Oddio Il god Che equivaleva Qua Qua che doveva Fa Cajoti Tipo blu Super Saiyan Blu Kajoken Sì no Va No Va Va In Super Saiyan Blu pure Il terzo step Penso il god Equivale al Super Saiyan 2 Dell'animazione classica Eh mi pare che il blu Kajoken C'era che faceva Toccanfest Ah gogo e Vegeta È vero Sì 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 Gogo e Vegeta Gogo e Vegeta Quelli Quelli che stanno Di schiena del film Sì Sì esatto Erano loro Sì 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 Esattamente Belle Sono belle Sono belle Sono belle Sono belle Sono belle Sarò belle pure quelle Della seconda parte Di Super Hero Anche se c'erano già Però Dai 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 Troppiamo Troppiamo Mamma mia Pugliamo Troppiamo Black Black AGL Vabbè Ok Aspetta che in chat Mi chiedono O si attiva Brawl Animation Ricordati che se non c'è La musica di sottofondo Nel pool Può essere PG banner Vabbè ma io gioco Senza musica Quindi non lo so È vero Cioè se sempre Io Mi hanno sempre detto No ma è un bug No ma è un bug Oh io puntualmente Quando mi si stacca La musica Trovo qualcosina Vai vai Allora vado Abbiamo la 50 E poi la prossima Non la paghiamo Quindi Bello eh Alla prossima Non si paga Oh oh Attenzione Vediamo Trunks Capiamo Abbassano Metà zeno Ho guarità Intanto Sì Vediamo Fusione Sarebbe bella La Brawl Animation Io non l'ho mai fatta Per proprio bella Proprio bella Eccola Eccola Vediamo Allora Un bel Trunks Kid STR Poi c'è Bello per modo di dire Ovviamente ragazzi Beh per fargli un complimento Sì Dure Ok Quasi quasi sto pensando Di non guardarla Perché La non guardo Animation Vuoi fare Sì 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 Vai vai Affrontiamolo Non fa niente Avviso aperto Vai Gone Kid Ok Dai ci sta qualcosa Dai Per favore Ci siamo eh 3 2 1 No ma questo Non è neanche Dei tap Ma sai che forse Non li tenevo Però loro Vedi da così A breve Entranno a tezzo Ma io guardo sempre Il lato positivo eh Fin qua No non li tenevo Perfetto Sti cavoli Vai Vai Pronti Ci sono Sì sì Ci sono Zero Porta Zeno Vai Vediamo La Free E la Best Multi Perché è regalata Vai Fai accadere qualcosa Ti prego Vabbè dai Abbiamo fatto le prime tre multe Abbiamo fatto per scontate Va bene così Per il momento Più o meno ci siamo Lo so che C'è quel guambista Dall'altra parte Che ci aspetta Però voglio dire Dall'altra parte Della barricata Dai qua ti potrebbe fare Un bel feccautino eh C'è un po' da feccaut Vediamo Vediamo Questa zera ma basta 17 funiculi Funicula Porta bene Sì Basta E Sti cavoli di guambista Guambista lo dovete pullare Fine Basta Va bene Tocca a te Vabbè dai Non l'hai pagata Guarda la Guarda la Così Non l'hai pagata Eh Vado io Vai vai Free Non si paga questa signori Quindi Se scula Non ce l'ho idea Ho detto Staccata la musica Invece no Fermi tutti Zenonimation Fra 3 2 1 Rainbow Rainbow Proprio inutile Ok Doppio crack No proprio niente Mamma mia Proprio niente Questo è proprio da Questo è zero Ci sono state proprio scam per noi In coppia Questa è Tasto skip Che arriva nelle multi di Dokkan E tu lo piggi subito proprio Cioè proprio quella Mamma mia A meno che non esce veramente un fake out qui Ma guarda Sì sì dai Skip Skip totale Vabbè Anche il Trunks è falso Manco quello Sì sì Stesso colore ma non è la LR Comunque la LR Ce l'ho quindi Voglio dire Vado Vai vai Certamente Si ritorna a 40 Vai Guarda io non so se poi Mi sposto subito da Broly Nel caso o meno Ma cosa vuole questo Ten Shin Han Attenzione Grande Vediamo Grande Grande Vediamo un attimo Vai credici 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 Non demordere Chiuro Ci siamo ancora No Sì 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 Chiuro l'occhio Vai Non chiuro l'occhio Guarda un faccio Vai Chiuro l'occhio Vigitati E ascolta questa Bomba Così proprio Arriva arriva Dicono Eh chissà Io non riuscirei a tenere il segreto Ecco quello che volevi tu Full ability Sì Full ability Sì Lo porti ora full ability O ce l'hai già full ability Era ability 3 Quindi adesso va full Ah vabbè dai Eh sì Sì Loro mi farebbero molto comodo Cavolo Sì Lo debbo ammettere Lo debbo ammettere Mamma mia santissima Mamma mia Irrecuperabile Mamma mia Irrecuperabile Aspetto il super edza A questo punto Eh ma manco con quello Probabilmente Che meme Sti due Mamma mia Full ability Da sempre Pessimi Pessimi Vabbè Sei pronto Però Però mi sarebbe piaciuta La multi così Vai tocca a te Tocca a te È il tuo momento Vado Let's go Che step è questo Il quinto Vai Allora Non Forse tu non te ne sei accorto Si è staccata la musica a me Non c'ho la musica E c'ho la fusion Vai Che poi è bellissimo È lui Lanciata proprio Nel momento in cui ha fatto fusion Ah Boom Vediamo È lui È lui È lui Dai Guarda ma può essere pure Non gogeta eh C'è sta tanta troppa roba Che mi interessa Quindi C'ho tante possibilità Di poter dire Va bene Guarda come si la Oh Eh non va bene così però È così no Però Dai Doppio LR Anche tu Per par Ecco E Per par Condicio Siamo a trovare la stessa roba I denti Che ho trovato Broly Trio Ma lo trova pure a me o Broly Trio Però Per favore Non ho mai di masche Se è possibile Signori No ma hai già trovato la tua LR in più Ok Questi sì Broly Trio sì Mi mancava Mi serviva Perché questi quando vanno ad Ezza Sono Fortissimi E mi servivano Vabbè Coliflatec Ormai ce la siamo levata già Dalle scato Oh però sta Ancora Ce n'è ancora un altro Sì Sì Attenzione Sta andando eh Ti sta andando Un bel Trunks Xeno Mamma Ti dico Già Ok Già ok per il momento Ci sta Hai trovato una carta Che ti serviva Un po' di abilitozza Goku Broly Broly Trio Che mi serviva Assolutamente Guarda qua Ecco qua Tutto zero Mi serviva Mi serviva Vado Aspetta un attimo Vai vai Fai con calma No no Vai 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 Vado vado Quindi sesto step Questo Sì Siamo ad uno Dalla Fine 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 Step up Un trio un po' Sus Un po' sospetto Ma tu perdonami Ma forse te l'avevo chiesto Però me l'ho scordato Perché si è andato La Gogeta Perché Lo voglio Più di Broly No li vorrei entrambi Mi sembra abbastanza ovvio Però Anch'io In questa batch qua Non ho Trunks E non ho quel Goku di Thales Quindi almeno qua Pullerei per 3 pg che mi mancano Di là invece Ok ok ho capito Di là è un disastro Ci sta Ci sta Ci sta Sinceramente Sinceramente Se non ci fosse stata Questa formula Della step Step up Avrei Avrei Skippato Entrambi i carnival Quindi sia Gogeta Che Gamma Tanto c'ho già Più di mille coin Con lo stesso formato I gamma Pensi di Skipparli? Sì 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 Ma perché penso Che arriverò dai gamma Senza neanche una stone Me lo sento Speriamo di no Speriamo di no I gamma Io l'ho detto Per me La top Giocata Sarebbe lanciargli Ticket Perché vuol dire Che ho trovato Già tutto prima Gli sparo Ticket sopra Male male Angelone Male male E quando fai così Vuol dire che io Ti devo seguire a ruota Quindi Vai Lancio la mia Let's go Ti seguo a ruota E invece Non ci saltiamo Zero Mi esce Ho provato Stai lagando un po' Mi sa Due Tre E Non Goku e Vegeta Però vabbè Ok Allora Diciassette Potrebbe ancora Esserci La problematica Dei tre RSSR Non è detto Cioè lui Non lo so Onestamente Vabbè Non credo che sia un problema Trunks Ok Ok Virus STR No mi sa che è andata No mi sa che è andata Allora Sì sì Sui tre questi Sui tre Ecco An Ultimate Vabbè Eh l'avevo detto Tremendo L'avevo detto L'avevo detto Che ti dovevo seguire a ruota Vai Let's go È la pull questa È lei È lei Ci siamo È lei Questa è importantissima Sparamilo subito Un Black Rift Sparamelo subito Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Spara e chiudi gli occhi Ti dico io Se non è Black Rift Tranquillo Se non mi senti parlare Preoccupati Vabbè vai Non è Black Rift Vabbè vabbè No te l'avevo detto L'avevo detto subito Vai Qua dobbiamo cacciare Le animazioni Qua Ma intanto Mi vedo un attimo I featured Ma che Ma che Ma che molti è Ma che animazione è Allora Krillin AGL Paragas Ecco qua Cosa mi darà Un bel Krillin L'ultimo PG Giusto Featured Tanks Oh Buono Ma io non ho capito Ma è il garantito Già questo No Sono a metà multi Ottimo È all'ultimo Vedi È all'ultimo Vai Uff Buono Vai Vai Angelone Vai Ottimo Ottimo Mi mancava Troppa 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 c'è sta bombetta Va Dai Pure Gojeda Dai Nella stessa Trovi Gojeda È chiuso Vai da Broly Direttamente Che gli fa più Magari Ah Quankid Babbino Maledetto Quankid Mi andrebbe bene Prima siamo morti Contro Contro Gm A causa sua Ah Ok Buona Dai Ci sta Ci sta Ci sta Abbiamo preso Nell'ere che ci mancava Ci sta Grazie Kingbrun99 Grazie per il prime Bello benvenuto Grazie davvero Signori Tocca a te Dai Ce l'ho pure io La 50 Con fetored garantito Signori Ci siamo Black Reef Vabbè No fusion Vabbè si fa la fusion Lo stesso Se la fa Ok No vabbè Non è da sottovalutare No Vabbè ma Doveva farsela per forza Tipo quasi Oddio in realtà Questa mi sa che mi esclude E krillin agg Eh dovrebbe Skullet T-3 Reef Sam Credo Quelli Let's go Allora All'ultimo C'è sicuramente Un featurid Però Speriamo prima Speriamo pure prima Insomma Voglio dire Ok Bel vegeta GT Bello Ma tu Di pure questo Oh io Non li sto contando Ti contando tu No assolutamente Cavolo Vabbè Non fa niente Tarball Ci siamo quasi Se non è questo Il pro È l'altro È lui Veccaut Grande Sì Sì È lui Angelo Io ho chiuso La congetta Però mi annaggia La putta Devevo bullarci Non fa niente Vabbè ma Non fa niente Come sempre Sono io che porto Porto Ricambieremo Ricambieremo Fidati Capiamo Ricambieremo Capiamo Loggeta E allora Ci siamo portati in pari col Jap Adesso cerchiamo un pochino Di portarci avanti Perché io non so se tu lo sai Ok era lui l'ultimo Perfetto Era lui l'ultimo Io non so se lo sai Ma l'altro ieri Sì Quando è stato ieri O l'altro ieri No forse ieri sera Io ho pullato nel Jap Nel Tanabata Angelo Perché non avevo Beast Ho trovato Broly Beast E Gokumui In 150 stone Tipo Non di più Una roba E ti sei evitato Di shopparli con i coin Quelli che ti mancavano No aspetta Forse solo Broly Ho preso i coin Avevo trovato Gokumui Beast E non mi ricordo chi altro Ragazzi qualcuno se lo ricorda Vai Angelo Vai Angelo Dai 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 Tocca a te Tocca a te bro Dai Tocca a me Ma tu Prossimamente Vai su Broly Ovviamente Sì E allora vado pure su Broly Dai Sì perché ti dico Cioè alla fine aspetta Facciamo un attimo Un ragionamento Aiutami pure tu Allora io Non ho nel banner di Gogeta Metal Cooler Gohan Ho trovato il Broly Trio Che effettivamente Era fra quelle Quella che volevo di più Insomma perché ci allezza Forte Gohan e Metal Cooler Sarebbero per l'accademia Insomma Asfiziosi Buoni Che dici Mi sposto no Cioè non mi conviene Starci ancora da Gogeta Per il momento Ti trovi Sì assolutamente Mi sposteresti Sì 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 Io su Broly No io Quindi adesso Vai Angelo Comincio anche io da Broly Vediamo se Vai 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 Giriamo Gogeta Di spalle No È belle spalle Proviamo a vedere Io ho fatto Broly Gogeta Fai in modo tu Broly Dai Alla prima Cacciaci un Brolazzo Subito Magari Attenzione Vai Vabbè Ok 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 Te stanno a dare La garanzia Qui eh Non sono Tre SSR Qui dentro Tu hai Ottimo Lo volevi Ebbè Buono Serve Però Aspe ma Comunque C'è altro Dentro Che non è Dockhamfest Bro Non lo so Se è semplicemente Banner Scusate Non è Dockhamfest Proprio Vabbè Andiamo avanti Vai vai Secondo me ci sta Ma ci sta pure Broly Arrivederci Vai 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 Chiudo tutto Banner Subito Vai Eccoli Hai visto I god I god Va bene Va bene Va bene Vabbè Quanto ce li avevi Un binit di due Quindi adesso vanno a tre Pronti per lezza Eh Preparati Preparati Che qua Si prospettano belle rubine Te lo dico Io dicevo Se hanno fatto le sesto In quel modo Figuriamoci Le settimo Come le conciano Si si Pure io penso Sarà Roba Senza senso Incredibile Abbiamo provato a fare Dei calcoli Secondo Secondo me Andranno sui 35 milioni Caricati Eh ma vada Ma siamo destinati A soli Vado io Vai 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 Ragazzi Comincio a un chiodo a broli Let's go Brolads Vai Ah Vabbè Vinte Due Vabbè Mi sembra abbastanza Di passaggio Eh Sono onesto Mi sembra abbastanza Di passaggio Non c'è la cannuccia L'uomec Proprio in mano Ma perché Perché hai questa cannuccia Tipo bacchetta magica Eh così Perché la ce l'avevo qua Fra le mani Mo ti dico Mo ti dico Mi racconto pure a te C'è un po' di pubblicità occulta Vabbè 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 dai Questa si vede Dai Hai fatto la Multi che ho fatto io prima Con Go Ons Che stai un po' di pubblicità che stai in due GL come ultimo Vai vai Mi sono accaparrato 4,90 euro di mac menu large questa sera appena l'ho visto in app ho detto vai subito Ci sta 4,90 signori Cosa hai preso il BB Double BBQ pollo Ah pollo Pollo Se coca la large E patatine large Signore E chi stai per me Chi è me stasera Vai 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 Trovaci sto brolazzo Sto brolone Ok Ma te stai proprio senza musica o proprio senza audio? In che senso? Beh Nel gioco? Io sento l'audio del gioco però mi sa che ci hai staccato la musica Sì 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 no la musica l'ho tolta Eh tu la levi sempre? Giochi senza musica? Sì gioco senza musica Che bella metamor Ma sembra sembra proprio Ma raramente l'attivo Ma che è per il problema del copyright? No no è una cosa mia Cioè considera che comunque giocando quasi sempre col muto Già è tanto che ci sono i suoni Eh ma sai Sta cosa fa pure Luigi Eh Una malattia mentale di quelli che giocano dal primo anno In realtà no Pure io ci gioco dal inizio E anzi io la musica di Tocca non la tengo sempre attiva perché Cazzo Faccia delle host incredibili Eh sai cosa No io non me le godo Cioè se ci gioco non me le godo le host Prefisco ascoltarmele in separata sede Ho capito Bello Vegeta Super Saiyan 3 Io c'ho i rituali Per esempio quando parte la revive di Goku E la bacci di Vegeta proprio Quando parte la revive di Goku Tech e LR Io qua non si parla Qua tutti i muti Santo Sì 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 tutti i muti Proprio Vado io? Vai 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 signori Abbiamo la seconda La 40 Possibilmente Troviamo un bel broli Prima di arrivare alla settima No Vai Vai Attenzione quel Whis Eh in realtà Meglio Beerus Meglio Beerus da solo Ame 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 Due Ma niente Quando gli dico due non gli piace Dico od Altrimenti non va sopra Vabbè Un bel Bardock che Voglio dire Abbonanime Brava Abbonanime veramente Abbonanime Però c'ho un bellezza Un bellezza Ormai Insomma Continua Continua a dare qualche piccolissima soddisfazione Invecciano tutti alla velocità della luce È tremendo Sì Anche se ti devo dire Nei Battlefield Comunque Non so se hai visto la season attuale del Battlefield È bella Bellina proprio Non so se l'hai giocata Quella proprio movie La sella Battlefield Il Battlefield Oddio ma spiemmo perché hanno messo quell'anniversario Eh Quell'anniversario dici Ah no io dico quella precedente Non l'ho visto questo qua che hanno messo un anniversario Dico la season quindi precedente L'hai giocata Sì sì certo Bella Bellina Quella con Con cooler finale Metal cooler Metal cooler esatto Bellina Molto Molto bellina Vai Tocca mua Sì Per il momento sto Broly Vediamo se esce Che è la terza questa Un po' soddisfacente Vai Yam chad Ah tavolo Dai dai Meglio Broly Zeta Boy So Zamato Bro Broly Ma come Oh no Direttamente Direttamente La prima batch Del primo anno E tra l'altro Pure il mio primo SSR Di Pulla Mai pullato Pensa te No io Pullai Vegeta come primo Eh no A me fu il primo questo Quelli due erano O questo O era Vegeta No è vero Quando Quando iniziai tre mesi dopo A novembre 2015 C'erano C'erano già Gohan Mi sa Piccolo fisico Forse One in piccolo fisico C'era lui Poi mi ricordo Che altro Oh il Trunks Era da Ah no Da GL Perdonami Il Trunks Che era in etapa Da Rosé Sul Giap Da noi Era da Freezer A caso Perché mi ricordavo fosse Int Non lo so Ok Un Trunks a caso Va bene così Qualche roba strana Vabbè Vado io La zero No tu hai ancora quella da 50 Ok No la 50 La 50 Io ti Sto perdendo il conto Ti vengo appresso Vai 50 signori Let's go Vegeta Krillin Quando Goku proprio non sa con chi vuole andare Vabbè E invece Adesso lo sa con chi andare Ha deciso Ha deciso Ha deciso assolutamente con chi andare Vabbè stata più bella la fusione con Krillin eh Vai Vediamo chi è Vai Sei tu Paragas Broly No No i blue boys Ok Come Come ce li avevi questi Sempre ad abilità di bassa Sempre bassi Credo che non vadano oltre l'abilità di uno barra due Ma veramente Eh no L'ho pure so tanta roba Dez Garlic Nano maledetto Per non farci mancare niente Per garlic Riccone junior Un bel freezer angel Vabbè E mi sa che Broly Proprio lui Wingardium le Broly E non è invece una pan Pan di San Valentino Vabbè blue boys Ci sta Non malvaggi Non malvaggissimi Ci accontentiamo di poco qui Vediamo se Se di qua la zero Vai Ci darà qualche soddisfazione Vai Angelo però Motevi iniziare a droppare Eh Ho pensato finora Però come inizi a droppare Allora Siamo ancora mezzi safe Eh Perché poi ti dico La situazione può svoltare Da un momento all'altro Ma proprio del tutto Però Dobbiamo iniziare E se non iniziamo Dobbiamo mettere La musica di Taipei Cioè abbiamo A parte problemi di schermate E E poi signori Una multi per volta E più content Amici miei E più content Una multi per volta Mamma mia La buonanima Dei blazing battle Te ricordi o no? Indimenticabili Mamma mia Che tortura Vai 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 Vado io Free Da Broly Signori questa non si paga Quindi Broly qua dentro Va bene così Goten ed MVP Vai Vediamo 3 2 1 Mi sembra Una free Proprio La normalità La normalità La normalità Delle free Vai Vai Così E' il capitano E' il capitano E' il capitano Ma intanto io continuo ad avere scritto qui a breve pullo Ma a breve che cosa? Un pullo che è patana? A breve pullo con le patate Il pollo che hai mangiato nel hamburger Grave esatto Esattamente Grazie Betto Meta D'avrei sei mesi Non mi sembra di aver scritto quella roba lì Buonasera Buonasera Angelo Il tuo piedino fatato mi ha portato tanta fortuna Spero ne abbia Abbia tanto anche tu in questo summer Capiamo Vai Devo sfregare il piede Attenzione Che bello Vai Attenzione Il piede Il piede funziona Vai Il tuo piedino fatato mi ha portato tanta fortuna Vai Spera Spera Ciao Vediamo E Un bello guarità Piedino Uno God Immaggia guardate Niente Vabbè il brivido Vuole regalare il brivido Vediamo Vuole regalare il brividozzo Mi dicono Vediamo Vediamo Angelone va Angelone Sparaci sta pazzurdiata Fai Ma Fai È lui o non è lui Ok Detta boys Mica male Ci sta Erano free Vabbè Poteva andare molto 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 peggio Dai 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 Però almeno iniziamo a trovare qualcosino Eh infatti 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 Sì Io mi sa che sto ancora a pezzi qua da Broly Cioè Totalmente Vado io Quaranta Signori Vegetta più due Trunks Questa è Nel mezzo Questa è buona Questa è buona Questa è buona Non vuole fondersi Ma non è per nulla buona Questa Strano però Padre e figlio Poi c'è anche Machinbu Ma questa non è per niente Buona Ma no Allora sono tre ssr No Ma sa che Nel proprio niente Ma proprio zero Eh no Guarda che zero proprio Ma dov'è raga che cambiava La combinazione delle Nadal La combinazione delle animazioni Dai super hero Era lì che cambiavano Perché mi pare che usciva in mezzo pure Broly Nei super hero O dico una castronzata Mi pare di sì C'era Broly Varie combinazioni diverse Seconda parte Ci siamo? Sì Senti Dopo la sfregata di piedi a questo punto Hai proprio coperto Vai Lulla proprio a terra Proprio Attenzione però Ce la sto facendo Vai vai Ah ma proprio tutta Ottimo Aspetta che devo tenere il telefono Con l'altro piede Vai 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 Migliori fermi Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi Io come buggini in questo momento Vai Ma che è Che meme Broly quello sbagliato Ma il colore Il colore è quello giusto Si deve trasformare Hai capito che sta a fare Cosa trasforma Vediamo Madonna che sofferenza Mamma mia Mamma mia Che sofferenza Zamasu Zamasu Vabbè però ci sta Dai 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 Ci sta ci sta Il piede è voluto Zamasu Dai Assolutamente Assolutamente Va bene Va bene va bene Va bene Ma sai che pure il banner di Broly Non è malvagissimo Per me Senza Però Vado eh Vai vai Let's go Signori la sesta Quella prima della settima Uè Trunks è mai Azz Staccata musica intanto Abbasso mi da Zenonimation Sei pronto? Ho provato Staccata musica Blu Vabbè Trunks è Vegeta Eh si è Trunks è Goku e Vegeta Raga Gogeta No Vegito Minchia l'avevo visti poco fa Oh l'avevo visti poco fa Allora ti posso dire una cosa Ce le ho abilità bassissima loro Tutte e due Pure l'STR Eh Mi pare proprio di sì Tutte e due bassissimi Per questo Ti avevo appena finito di dire Ma sai che sto banner di Broly Pure per me non è malvagio Però voglio dire Hanno fatto il loro tempo Non servono più una fava Oh Buono Holden Freezer Buono buono Ci può sta Ma ma te li sta dando Tutti insieme Ma che Vi voglio dire Stiamo ripulendo il banner E facciamo pure Broly A sto punto E facciamo pure Broly Signori del banner Signori di Dokkan Amici di Dokkan Global Festival Broly Fammo pure Broly Ah Let's go 3 2 1 Broly No Un altro reggito Un altro reggito Ma Del paleolitico Va bene Molto interessante Niente di Ma molto interessante Devo dirlo Va bene Vai Senti Senti io Squadra che vince Non si cambia Non si cambia Lascia a terra Lascia a terra Piedino ma Piedino fatato Vai Ci siamo Vabbè Allora Diciamola Qua O acchiappiamo Broly Animation O acchiappiamo Black Rift O acchiappiamo Zero Questa è roba scontata Quindi quelle Sono Le nostre animazioni Quelle a cui puntiamo Però ci siamo Vediamo Beh cacao Meraviglia Dai Ne stai contando? No Eh manchi Ho messo brutto pizzo Che ne conti Vabbè ma sti cazzo C'è niente Vediamo Vai siamo quasi alla fine Ah Con l'oro mi sa Eh sì Eh son l'oro Son l'oro Oh tutto il banner Te l'ho trovato In questo giro Comunque Tu? Eh Praticamente Cioè di quelli che Che mi interessavano Un pochino Sì sì Mi sa di sì Mi sa di sì C'ho C'ho io la sette Da che ho già t'ha portato bene Ma abbiamo Vediamo da broly Vai Signori La sette La più importante Da broly Con vegeta più due Quindi si vuole fondere Vai Lo facciamo proprio a tempo Raga Quando dice quel Ha Boom Spariamo subito Vediamo Non sono queste le animazioni A cui ambiamo Nella settima Però Vediamo se riusciamo A trovare qualcosa Prima Non fake out Ok Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Mi sa che è l'ultima Dai Quindi Andiamo verso l'ultima Is that a voice Onesto Ci sta Va bene Va bene Veramente mi raccollo Ability free Ability 1 Va bene così Ti posso dare una bella notizia? Dimmi tutto La prossima costa 30 Vai Ma Vabbè Tu hai finito Insomma Continui da broly Da broly Sì sì Da broly Invece stavo pensando Di tornare da Gogeta Da broly Sono comunque delle ability Per gli altri Poi broly Oh e lo vorrei Onestamente Pensando di tornare di là Perché ormai A parte Che chiaramente è broly Ho trovato tutto Trovato tutto Quelle poche Che non avevo D'abiti Le ho trovate Quindi Direi di fare Un giro di qua Vai Tu fa proprio Tutte le sette? Goku da solo Oh warida Ah buono Vai 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 Incazzati Arrabbiati Vabbè tanto Ci siamo già No più o meno Dammi questo Gogeta Dammi questo Gogeta Broly LR Tech Tavolo Ma l'ha messa al decimo Dove l'ha piazzato Ah no No non è il decimo Ok Slug Che roba Cavolo Cavolo Vado io Vado io Vai Vai Signori La 30 La 30 Se risparmia Mi dicono Vai Trunc'è Prunc'è gode Diciamo che mi hanno sempre scammato Finora però Continuano a voler andare verso lo scam Vediamo se si ripigliano Sì mi sa che voglio uno scammato di nuovo Madonna mia Scammerella Forza 3 4 5 6 Sì perfetto scammato Scammata Ancora Scammata Scammata Io Sto dando un attimo gli abiti Così per rendermi conto di com'è la situazione Poi farò il passaggio totale Insomma passo un po' in giro Ah che roba Ah questi sono andati full con sta copia Scoppino a quanto punti di andare VRStrange 0 Just subscribe Ah se è full ok Me la dovrei vedere pure io Sinceramente non lo so Grazie Strange per i 23 mesi Non lo so Ah che dai priorità in basso a sinistra E poi alto a destra Come finale Eh sì quasi sempre Do priorità prima la difesa E poi l'attacco Ok Poi dipende eh Dipende dipende Puoi darsi pure che c'è Io sono sempre abituato a fare Alto a destra E poi in basso a sinistra La latina Ci sta Però sai com'è I PG invecchiano più rapidamente In difesa Che in attacco Quindi di solito Do priorità la difesa Ma bro Ma dove la piglia sta Ragosta blu Perdonami Cioè Tutto bene Che è stata roba Della Ragosta blu Non lo so Potenti di voler andare Eh ti ho detto Non lo so Non lo so Mi farò prendere dal sentimento È tutto in valutazione Man mano Ma pure per me Anche se io il cuscino Tra virgolette Me lo devo lasciare Per go Sì Diciamo che io non volevo Spendere più di mille stone In questa prima parte Ok ok Il problema è che sta step up È bellina Che non è male Eh però ti fa il giro Non te ne accorgi Se ne vanno 255 stone Sì Sì Quello sì Quindi con 4 giri Se ne sono andate 1000 Eh sì Vero Però vabbè Perché noi comunque Lo vediamo alla fine Come giro intero Da set eccetera Però in realtà Cioè noi possiamo pure Sottdividere in 1, 2, 3 4, 5, 6 Grazie Dani Per i due mesi Complimenti per La pullata Che ne pensi Della ultra Che devo pensare Devo dare veramente Dei commenti Devo fare Eh dimmi Dimmi un po' Ho visto Ho visto Il Gugita Super Saiyan 4 Eh Io Non sto seguendo Legend Però sono curioso Che roba è Nel senso Puoi sapere Se è forte Quanto è forte Eh sì Se hanno messo Qualche meccanica nuova Non lo so No ti devo dire la verità Niente di evidentissimo Come meccanica nuova Però Counter Apparentemente Il mondo intero Ma è da capire un attimo Oh non lo so Non lo so È da vedere domani Però apparentemente Sembra Ovviamente Ci mancherebbe Come animazioni Che ne pensi Ah bello 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 Poi le ultra in realtà Non è che Si siano mai lanciati Con animazioni impazzite Quello so Le LF Che fanno le mosse Particative Questo è bellino Gli hanno messo Uno scorcio di mossa Simile a quella di Vegito In Kakarot Non so se Te la ricordi Sì sì Quella dove Buan cade Lui Tipo gli da Quella Quella Ginocchiata Sì 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 Mi hanno messo una roba simile Eh no ma l'ho visto L'ho visto Per curiosità L'ho visto Sì sì vai Ci sei Vado io Per curiosità Ho visto l'animazione Ok Vamos Ah bello Bello Tutto sommato Bello Ok Ma Trunks Mai No 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 Trunks da solo Ah allora l'ho visto male No no ci avrei fatto caso Impossibile Impossibile Ah Eh niente Niente Non vorrei doppio craccare Purtroppo Signori che cos'è Quel destino E quel destino Ancora il destino Del non anniversario Del blazone Goggetasi Gli altri no Goggetasi E broli proprio no Vediamo Ecco il destino Ok Frost Mamma mia Terribile Frost STR Proprio così Giusto per Piagne Vai Io Ho fatto Siamo a 50 Entrambi Giusto Sì sì Ce l'hai prima tu però E poi dopo Ce l'ha free Cioè ti ho detto Noi li vediamo noi Come giro completo Quelle da 7 Però in realtà Se li suddividi Se Due giri alla botta Oh Finalmente Vai vai Un giro Zero 5 ticket Trovato per Foto Ma come Ma come Ma come Ah gli occhiali Non è il culo Un'altra volta La stessa Molti di prima No no Un'altra volta E Barlot Boh Barlot Maledetto Maledetto Gohan La tua nemica Vabbè Mi lancio la frida Ah No non è vero Che cazzo Che Pago 50 stone Signori Vado Vai vai Let's go Ah Vabbè Ah Finalmente Vediamo Vai Oh almeno Sti dn Jaws Non mi lasciano A più Anx Almeno quello Dai 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 Troviamolo Troviamolo qualcosina Non dico per forza Broly Ma troviamo qualcosina E comunque Sono sempre buoni Gli abiliti Predictata Golgete STR Rediction Vegito Si è andato vicino Ce l'ho provato Vai Eh Avevo visto il quinto anniversario Quinto anniversario E' sbagliato solo a pigiare Più al personaggio Raditz Conti Nel 1990 Muviros Che era un bel personaggetto Eh Quando uscire ci mancherebbe Paragas Goku Super Saiyan God Ma Ed era lui il finale Va bene Vabbè Niente Non mi Oh almeno SoCoin Non era la free Eh Eh Almeno quello Vai Dai 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 qualcosa Vai Vediamo Vegeta Due Fusione La fusione c'è La fusione Prova c'è sto Broly Ah no Questa è Cugeta 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 Prova c'è sto Cugeta Il giacchetto è quello Dai Ah si Simile No Basta Basta Ma che è Una tortura Ma questo l'hai portato a ability full Non mi ricordo quando ce l'avevi però a ability full questo Non vediamo di Ma che cavolo Oh Riccardone Che c'è Riccardo ma che cazzo hai combinato C'è Riccardo 600 stone Broly full a ability full Ma come Incredibile Che amarezza Quel Gohan Quel Gohan proprio Ti sta Ti sta torturando eh Ti sta perseguirando Incredibile Vai Finiti me che si toccano infatti Vado io? Vai vai Brolaz Si dà almeno una soddisfazione Dai No Oh Trunks e Mai in realtà eh Ci sono Trunks e Mai Non sembrava Ma ci sono Oh Arida Ci sono Trunks e Mai Oh quella Mai si era proprio persa Raga Cioè l'ho vista Proprio così di sfuggire Goku e Vegeta Ok Ok Va bene Broly Lo vedo Oh A me Gohan A te questo L'abbonamento Io queste scene le ho già viste nel mio Jap Io me le ricordo già queste scene nel mio Jap Io non vorrei che Ricominciamo qua Perché mi pare che nel Jap mi ha fatto una roba simile Vegito Tech Fu una pena trovarlo Non mi ricordo in quale delle due versioni Ma nel Jap a un certo punto è diventato un meme Cioè è diventato ability full e oltre Ma io devo andare a vedere nel global Cioè devo vedere nel persifizio quanto lo tengo Che non sta a venire un dubbio Ability free no? Eh esatto ability free Quante copie ci ho trovato? Vediamo un attimo Ok ability 3 dovrebbe essere Eh ability 3 3 Adesso lo dovremo offrire me lo ricordavo Mannaya va guarda incredibile Vabbè Andiamo avanti Non siamo ancora a livello di guana GL raga ma Scherziamo e scherziamo ma qui Mi pare che questo God and Trunks Dai E poi quel Trunks si lancia sempre alla fine Io non si vede E invece prima cosa poi all'improvviso Si lancia il Trunks Dai 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 Bra Dai Eh dai Eh dai Almeno non te l'hanno scammata Sto soffrendo Eh lo so immagino No vabbè dai Vabbè raga Vabbè ma che è script Mi hai scriptato Mi hai scriptato Signori è ufficialmente finito il mio anniversario Signori è ufficialmente finito il mio anniversario Ma è scriptato però Cioè io sto trovando continuamente Vigito e lui Gohan Ma com'è possibile Ma com'è possibile Va Brutto eh Quando fa così Ti lascia proprio l'amaro L'amaro in bocca Quando fa così Vabbè Vado con la mia Vediamo Mo' ti fa portare full Vigito a te Guarda Non mi sorprenderebbe Dico la verità Se deve essere scriptato Ah io c'ho Beerus Vediamo Esce la Brawl Animation Non me ne vado eh Ah Peccato Ah no ma aspetta Ma quello la Brawl Animation Se non vado errato Se non ricordo male Non devi arrivare A toccare la sfera Tipo a un certo punto Esce proprio Brawl Il taglietto Il cut-in di Brawl Esce tipo Se non ricordo male Vabbè Papio Nirdegar Non ci interessa Vabbè E anche questa È una multi Bella che è andata Mi dicono Ah bellissimo 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 Il carillon di Tavion Targato Dragon Ball Z No? Sì 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 Bello bello Capendo Bello bello Dai Magari porta bene Il carillon E' andata Oh Che bello Sempre bello Quando non scammano Però Io c'ho paura Io sto male dentro Se penso Se penso Una tauta A chi ci potrebbe essere Guarda Golden AGL Golden AGL Ok Era free Va bene Per un attimo Non stavo Realizzando Che golden era Non capivo Sì 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 Beh questo Questo sai che mi farebbe piacere Cioè mi avrebbe fatto piacere in realtà Non ce l'ho proprio Eh ma è Tavis del primo anno Vabbè Guardiamo il lato positivo Non siamo Non erava ancora La settima No guardiamo il lato positivo Non era un'altra volta Gohan No Anche 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 Vai vai No non era la settima Quindi Dai 45 Sesta Vai Incommentabile Incommentabile Totalmente Incommentabile Direi no Ma proprio Incommentabile Che le fa Quello devo schippare Ah io non dico niente Non dico niente Non dico niente Vai Alzo le mani Grazie Intermarkets Tredicesimo Grazie per il prime Bello benvenuto Dico niente Veramente Quando ti fanno Molti del genere Da free a full In un giro Incredibile Ma c'hai anche Qualche copia in più Poi No adesso full Ah quindi L'avevi portato Ah ok Ce l'avevo free Adesso full Ho trovato 4 copie Ok Beh No mi sono un attimo Premurato Di Di dagliele Così Così No no ma così evitavo Di Di dare quella Un'altra copia Da pull Da pull Area stone Capi Visto che me l'ha data Anche nella free Dai 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 Vabbè l'animazione è qui Qua ci vuole proprio L'animazione rotta Sì Ormai è così Se non è quella rotta Nella 7 Quello ho detto Nella 7 Raga Noi ci abbiamo garantite Le animazioni Gogeta Abbiamo Ambia le animazioni Impazzite Vai black rift Dai E se non è black rift Può essere altro Ok Può essere altro Può essere altro C'è ancora la speranza Per la brood animation Quando fa Gogeta Non lo so Eh mangio Mangio Ah no Quando fa Gogeta Non dicono di no Ok Dai 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 No vabbè Dai Dai No te l'ho detto Io smetto Smetto di pullare Ragazzi Ragazzi Dai Steviate in giro Però no Mi dà Gogeta Nell'ultima Se no Krilin Il banner Il banner è Krilin Sì Che bella metamorfosi Basta No Aspen era lui No No Ma se io non l'avevo capito Eh sì sì Il banner era Krilin Perché mi ricordavo che stava in uno di due banner Effettivamente Siamo in quello di Gogeta Ma che cazzo è Terribile questo Dio santo Basta Basta Mato Tremendo ragazzi Che bella metamorfosi Gohan portato full Masakatsuka Sduro Just subscribed Mato Ritira i Gohan E prendi un altro Gohan Così Tanto per Basta Basta Veramente Sono Sono inorridito Mamma mia Cioè posso pensare Ti giuro Che Krilin era il BG Il Featured Vado io Guarda Niente di garantito Tutto un mistero sarà Ok Buono Abiti Ma Guarda Da bene una copia Per il resto Diciamo che nel Dokkan Festa di Broly Non può accadere la cosa Scandalosa che è accaduto a te Anche se potrebbe accadere Tramite Broly fisico Forse lui però No non te lo chiamare Ti prego Eh no no È vero però Nel Dokkan Festa Ci sono meno chance Di far accadere una roba Vabbè Abiti Dei Zeta Boys Mere di due Va bene Non fa niente Non fa niente Voglio dire Sconvolgente Sconvolgente Allucinante Sì Sì Mamma mia Mi sento il cervello fritto In questo momento Non te la senti? Di andare avanti Da Broly al massimo No ma se non te la senti Lascia perdere No no ma Penso un altro giro da Broly Lo faccio Più che altro Non so se farò stasera O domani sera Come vuoi Come vuoi Se non te la senti Lascia aperti Cioè mo stasera Tu che fai Continui a pullare O ti può servire anche tu Le pull No no Credo che Ancora un po' Che io posso Posso provare Facciamo una cosa Un giro entrambi Senza interruzione Una tirata Lo lasciamo di vettiveria Per me va bene Ok Allora si lascia Per me va bene Però mi devi garantire che trovi Che lo trovo io Che lo dobbiamo trovare entrambi No ma io uno l'ho pigliato Voglio dire Vogliamo fa' Vai 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 Va bene Chi vuole andare Arrabbiato proprio Chi vuole andare Parto io Te la senti Sono io quello che non ho trovato nulla Per ora Ti vedo incattivito Vai Sei incattivito al punto giusto Vai Cacciaci sto Broly Vai Bello incattivito Dai E' il riscaldamento E' il riscaldamento E' per forza E' il riscaldamento Sì perché se non è riscaldamento E' la batch di San Valentino Due peppini ha dato Vai 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 Ma l'acqua Quindi voglio dire Speriamo che esiste un riscaldamento Vai Il riscaldamento dura un po' fino Dura un po' Dicono 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 che in questo momento Sembri Broly Sei incazzato che sembri Broly Non si Non si capisce Chi è Broly E chi è Masumi Ci sta Ci sta Mamma ma che robaccio Sta uscendo No raga sto ancora pullando Cioè sta facendolo il giro E poi faccio io Si Facendolo il giro Il Goku da solo Fusion Dai vai 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 Dai vai vai Dai 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 Che bella metamora Edric Just subscribed Grazie Edric Per il prime Eh doveva succedere Doveva succedere Mari eccoci Immagino Ambiamente abili di full Si si assolutamente Full Vabbè Beh Broly Fisico Ovviamente No 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 Cavolo Avevo visto il capello Raga mi stavo un attimo emozionando Il problema è che la posa Tutto Timbobito Purtroppo Ok Oh però Cioè Questa è stata una bella multi No Tralasciando che non mi serviva nulla Però Visto dall'esterno Sono tre banner Si Vai La frileca alle emozioni La dedichiamo A Giften Con Il suo mazzo incredibile Vai Giften Ha sculato sicuramente Tutto cose Non voglio sapere man Guarda Vai Vai Che pezzottaggine Che pezzo Vai Madonna mia Vai Di cattiveria Ancora 40 Vai La 5 Maia la miserata Che bruttezza Guarda lì Che bruttezza Ce la faccio Doppio crack Ti prego Uno Che cazzo è Mamba Ma chi è Mamba Ma mai trovata Eh neanche io Ok Almeno un PG nuovo Era PG di San Valentino Che uscì Insieme a C18 Guarda Mai trovata Nella storia Dell'universo Ma che va Purti di non darmi Bro Ma guarda Ma poi è più difficile Acchiappare Sembra gli stessi personaggi Come stiamo a fa Ma infatti Penultimo Però sono cose A cui io sono abituato Mi sono abituato Caverna di Bratone In C18 Angelo Sei in live Quindi domani Che fai FESTA Domenico Portano poche Cule Vai Domenico Regala qualche Sub Sborsa Boh Ma questa Non c'aveva niente In animazione Giusto No niente Niente Ma infatti Mi sta dando Roba del paleolitico Virus Sì Vabbè Mamma mia Ci dobbiamo accontentare Di sta robetta Grazie Domenico Scherzavo Non era necessario Tira Tira C'è sta set Pazzurda Dai Dai No per forza Vai Dai per forza Tira C'è sta set Per forza Pesano Facciamo passare un attimo Questi abbonamenti Se no mi distraggo Vai Dai Carica proprio Caricala Vediamo se portano bene Vai Ultima multi E' lui O non è lui Che coppia Ah Fusione Quasi quasi Quando si arriva a questo punto Bisogna sperare che non fonda No no c'è ancora speranza Sì Sì Vai Grande Vai che ha portato bene Bravo Dome Vai Adicinkmo Gogeta Non sto scherzando Se vuoi Se vuoi però Ha funzionato Ma non ci potevo Non ci credevo più Non ci credevo più Ma tra l'altro Non è neanche l'ultima Ma qua c'è altro Ma qua c'è altro Dammi anche la biliti Dai Eh vai Qua c'è altro Qua è tutto di guadagnato Oh 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 No Non è fake out Non era fake out Qua è tutto guadagnato Oh due di fila Che sembrano fake Che non lo sono Vai Vabbè Ormai portati pure loro full Va bene Va bene Va benissimo Va benissimo Dai Ce l'abbiamo fatta ragazzi Abbiamo trovato almeno broli Dai Gesù Dai Ottimo Ottimo Allora Allora Io ho trovato Gogeta Tu hai trovato broli Eh fra Eterni rivali Amici ma eterni rivali Però Vai però Ti devi riscattare anche tu Vado eh Vai 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 Quando mi dai lo ok Vado Tutto di un fiato Ha funzionato Rusharla Fra hai visto Sofferente Ma ha funzionato Allora Questo è il riscaldamento Eh questo è il riscaldamento preciso Non l'abbiamo detto Questa è proprio La fase di riscaldamento Vai Però un bel fake outone Quanto ci starebbe un bel fake outone Secondo me bisogna concludere questa live pool Con una bella black rift Sarebbe figo Sarebbe figo Indubbiamente Poco da dire Cioè Restiamo umili Black rift Poi se proprio vogliamo Buttarla di fuori Broly animation L'umiltà prima di tutto Ci mancherebbe L'umiltà prima di tutto Noi chiediamo poco Chiediamo giusto una black rift Eh voglio dire Non è che chiediamo zeno Black rift Vabbè La prima riscaldamento Seconda Virus 18 Yamcha Brawl animation No Sicuramente non Brawl animation Vabbè Eppure questa Lo sapevamo Era un riscaldamento Quindi voglio dire Cioè possiamo Ancora Ancora Stato Oh non ho già Guardato Ah Eh un po' Un po' Ma fatto Mi stava acchiappando Un po' Alla sprovvista Mi stava acchiappando Onesto Cesami Oh di nuovo Sta Di nuovo Questo Incredibile Gira e rigira Sempre i stessi pc Siamo a fare Praticamente Dai è un segno Sta per andare a tezza Terza 50 Vado Vai Non c'è musica Potrebbe voler dire nulla Potrebbe voler dire qualcosa Vediamo Ho guarità Ho guarità Ho guarità Fermi tutti La 3 Oh 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 Attenzione La 3 è interessante Amici miei La 3 è interessante Riga intanto lì Lo stai per trovare E la 3 E la 3 Zamasu Zamasu Non è male Sono onesto Non è male Ci posso stare A che abiti L'avevi Senti Allora L'avevo trovato prima pure Oppure l'avevi trovato solo tu Non me lo ricordo Lo sai che non mi ricordo più Manchi Vabbè ma Allora prima di queste pull L'avevi free Sì free O è ability 2 Ability 1 Non di più Ok Grazie caverna Per il ride E i blue boys Oh Quindi Molto interessantina Questa Non male Pursi qui Ce le avevo ability Proprio Pezzottissima Super free E una pan Vabbè che voglio dire Vabbè ci vuole Il buffer In questo team Superino Certo Ci inizia già Ad anticipare La seconda parte Insomma Va bene Va bene Va bene Signori questa non si paga Però Una volta tanto Ma può fare Che mi fai trovare qualcosa Più o meno Perché ora mi ha fatto Se non mi ha fatto Vagare Però mi ha fatto niente Ma proprio Guarda Proprio Pessimo E uno E uno E uno E uno E le free Proprio Non ci vogliono Non ci vogliono bene Questo stavo dicendo Cioè Ma è una Ma è una costante In tutti gli anni Che le free A noi non ci vogliono Mai bene È incredibile Vabbè Ogni tanto Hanno cacciato Eh le free A te sì Ogni tanto mi è capitato A te sì A me proprio Ma per la legge Dei grandi numeri Per forza Una volta Devono arrivare A cacciare Prima o poi Però Cioè Non mi ricordo Nello specifico Quando Quali banner Però sì È capitato Va bene Sicuramente Non sta capitando Qui Signori 40 Vai vai 5 Si riparte Il famoso 32% Alex Sì sì Zeno Ho cagato sotto Ma però Se usci Se uscivano Però Me le ero chiamati Eccoci qui Goku Eh io le faccio Queste giocate King Gord 17 Zorban Grande Zorban Direttamente da Dragon Ball Super Italiano Master Roshi Master Roshi Frank Skid Ah poi Ah Eh Golden Int Ma quello sbagliato Ma pure quello giusto Non è che mi interessa Più eh Sono est Ti dico Manco mi interessa No ma si gioca E' buono Nel tiro No no E' bellino Lo so però Onesto Sei Vegetta Wiz Machin Bu Vegetta 2 Attenzione Questa me è una bella situa Vediamo Vediamo Allora Allora All'inverso A me ha dato prima Broly E poi Z Adesso ti ha dato Z Ora Broly Vediamo Ok A questo punto Broly ha l'ultimo PG No No Ci posso credere Minchia è uscito davvero Broly C'è uscito davvero Ma quello sbagliato Minchia è uscito davvero Non ci posso credere Madonna che cosci Oh che c'ha Broly Ma fa palestra Proprio incredibile Ci sto facendo caso mo Minchia I graffi i pupetti I graffi i pupetti No Ma fa palestra Complimenti Broly Fa gambe alla grande Fai TG Broly Ah non è neanche l'ultimo Vai vai C'è anche quello buono Dici Boh Chichi Va bene Diciamo eh C'è una misera Broly Dovevo specificare Broly AGL Angelo Io tengo qui Tengo qui Tengo qui una Motti che non so se lo sai Ma questa qui Aspè Facciamo una cosa Un dimor Si vede tutto scuro Adesso si Ah Grazie 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 Angelo Grazie Che c'è io Vediamo se il prompt Della Della sub Regala anche Broly Vediamo subito Naya E' Fusion 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 Se mi hanno detto Una cosa giusta Non potrebbe far Broly Animation Oh pure a me L'animazione Era brutta Ed è uscito Eh si 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 Sicuramente Però sai Stasette Io ci spero sempre Vediamo Bene 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 Ci siamo quasi eh Ci siamo quasi Forse è questo Il culo a poppa Vai No Blue boys Peccato Peccato E' tosta eh Peccato Poteva essere lui Poteva essere lui E io sai che ti dico E invece tu vai Vai avanti Va bene Ci sta Oh sparo Quest'altro giro Da sette Oh altrimenti È destino Che io devo trovare Sempre con Jetta Sto non anniversario E mai Broly E mai altra roba Cavolo Cavolo Broly Più che altro Più che altro Sai cosa Tramette Con tutte queste molti Abbiamo fatto Non abbiamo visto Un'animazione Garantita Eh cioè Non abbiamo visto Una Rift Non niente proprio Davvero Invece da Da stamattina Non so quante Me le hanno mandato Che hanno trovato Black Rift Tantissime Sì 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 Pure io le ho viste Sì sì Vabbè Non ci avevo fatto caso Sta cosa E' un'altra Tavanna Vabbè Ok Panky Vai Oh no Già non si è infilato Non si è infilato Belli papà Mamma mia Ragazzi Non la voglio vedere Mamma Dai Doppio crack Doppio crack Non la voglio vedere Si è levata la musica No niente No 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 La musica La musica si viveva Praticamente all'inizio No ragazzi Questo è Questo è Terrificante Questo è Terrificante Ciampa Questo è Terri Mamma mia Vegeta Super Saiyan Del 1990 Incredibile Primo anno Secondo semestre Ok Guarda Non si fonde Oh Questa che vuol dire Doppio crack Mi sembra che è sempre Quello Mamma Mi sembra che è sempre La stessa cosa Sempre Sembra lo stesso Non cambia niente Non cambia niente Purtroppo E ma è giocato No perché mi pare Che non è L Cioè Dockham Fest Fine Non dovrebbe esserci L Sta pure l'LR Dentro No però Trunks e Mai Dovrebbe essere l'LR Giusto Dockham Fest Sono i banner Dockham Fest Io Vediamo Eh infatti si Dockham Fest Sì Dockham Fest Non è l'R Era Broly Era Broly Fisico però Broly fisico Subito Subito Vai Free Vegetta più 2 La Free Niente Sta Free Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Ua sta Free Sta proprio La pastina fredda La pastina In brodo Fredda proprio Mamma mia Ma che vuol dire Stai presente Quando ti fai Quando ti mangiare La pastina Quando ti metto Formaggino mio Anche Anche Sai quella tristezza Proprio La pastina Fredda Quella Cazzo E' proprio Una pastina Freddo Mamma mia Sta Free Proprio Improponibile Improponibile Ed un giro E' andato Un giro di Insomma 1,2,3 Pubblicità occulta Che poi ne manca Più i sponsorizzo Quindi Vai Guarda Guarda Oh La fa Sempre su Gogeta Tutto apposta E' broli E' broli E' forse Il problema Tra pure Con beast Sto cazzo E' broli Che non so Proprio Capaci Trovavo Si sta alterando Ragazzi Il content Creator Sto perdendo Le staff Sto iniziando Sto iniziando Prima Quel Gogeta Mi ha tenuto Bello calmo Tranquillo Sì Ci vuole Ci vuole Una bella Black Rift Per Andate Adesso Go All Boh Chi è? Ah Ciao Ok 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 Usione Dai Gioco Dai Che broli Mi piace assai Proprio Come pg Proprio Figo Dai Dai Troppo Sto broli Ok Ok No Ah no Ok Ok Perfetto Perfetto Non so perché Mi era Mi era venuta una cosa Che è sta silhouette Zamasu di nuovo Nato Zamasu Toccherà giocare a broli Amico Zamasu leader Ma quanto pare Oh E' l'ultima Eh la sette Musica staccata Non c'è la musica Ma va bene No No vabbè però E' un buon segno Diciamo che è normale Long Eccola Grande Grande Bellissimo Gran finale Ce l'abbiamo fatta Angelo Eh vai Let's go Ah ma funzionava così Ma non andava diretto sul pg Mi ricordo Mi ricordavo che andava diretto sul pg La broli animation Non so perché No vabbè Ah Oh t'ha dato pure cogetta C'è cogetta str dentro Dai 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 Ability Nulla proprio Buono buono Così se lo giochi con il nuovo cogetta Signori Ah E' finito un cavolo di meme Sto broli che non riusciva ad acchiappare Tanto è passato pure alla Spagna Ma che cosa sta dicendo Ma scusa ma è meglio che inizi a fare le domande Ma va che sta broli animation No no Ti sta Ti sta regalando roba Vai vai Eh sì Eccolo Eccolo Signori Abbiamo chiuso Top L'abbiamo chiusa L'abbiamo chiusa Dai Dai Va bene Cioè nel senso Ci può sta Quanto ti è costato? 3 4 G 1.3 1.3 1.3 Divo Io c'avevo 3.000 3.000 3.000 e 3 stone mi pare Sì una roba del genere Sto a 1.8 1.8 1.8 E qualcosa Quant'è? Sì 1.728 1.728 Ci sta dai Almeno sì Bella multi questa Gran finale Oh ci hai fatto casa una cosa? Facci caso Guarda la multi No è Z-Boys Avevi fatto tu la multi Z-Boys e Broly È vero uguale Però è inverso Hai visto? Che aveva fatto Broly Z-Boys E invece ho fatto Z-Boys Broly L'avevi detto tu prima eh Ma te l'avevi detto L'avevi detto Eh però al giro prima Vabbè È costato un giro in più Ma ce l'abbiamo fatto